Salve a tutti, sono Simone Di Stefano, broker e manager dell'innovazione. Nei miei contributi su Opinion, la mia personale visione su... Allora, vi è capitato mai di cominciare a prendervela con le macchine, con i computer e ancor più con l'algoritmo pensando di poter comunicare con lui in maniera quasi umana, cioè umanizzare gli oggetti, umanizzare quello che ci circonda è un meccanismo che fa parte dell'essere umano, perché è un meccanismo di difesa, è un meccanismo di socializzazione, ci aiuta a comprendere l'ignoto, quindi rendere qualcosa che hanno conosciuto antropomorfo, cioè dargli sembianza o elementi che l'accoppiano all'essere umano è un fattore naturale. Ma che succede esattamente quando noi umanizziamo il nostro computer? E nello specifico cosa stiamo facendo quando stiamo umanizzando un algoritmo? Vediamo cosa mi propone oggi Netflix, guarda dove mi ha portato YouTube, l'algoritmo di YouTube, ecco questo per me è uno spunto di riflessione, perché davvero l'umanizzazione non è semplicemente l'attribuzione di elementi umani a qualcosa che ci circonda, ma è qualcosa di più, perché noi in effetti stiamo umanizzando l'algoritmo che ha letto le informazioni che ci riguardano. E qui diventa complicato, perché le informazioni che ci riguardano non sono più semplicemente cognitive, ma sono metacognitive, cioè ovvero quelle informazioni che grazie a questo algoritmo raccolgono i nostri gusti attraverso segnali che arrivano da comportamenti, atteggiamenti. Ecco lo spunto di riflessione è questo, qual è il processo e il rapporto che avremo con le macchine? Come ci comporteremo rispetto a questa capacità di percepire questo ingombrante elemento di invasione della nostra sfera decisionale e metacognitiva? Quanto siamo pronti a vivere questo processo con serenità? Siamo consapevoli che questo processo sta avvenendo ora, in questo momento? Basterà rendere umane le macchine per consentire che la nostra consapevolezza aiuti questo processo di invasione delle nostre decisioni? Oppure è più giusto cominciare a comprendere che stiamo entrando in un'era della conoscenza più metacognitiva? Bene, per oggi è tutto, grazie agli amici di Opinion, al prossimo contributo.